Pongo un problema, se su questi temi ci si vuole confrontare, io sono aperto al confronto. Se su questi temi si ritiene di dover limitare tutto a un dibattito interno al PD, è una responsabilità che si assumono coloro che lo limitano e coloro che pensano di partecipare a questo dibattito facendo gli acquisti di senatori di cui parlavo prima.